Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi, per la prima volta, voglio portare un nuovo argomento sul canale, argomento che ho sempre adorato fin da quando ero piccolo, negli anni 80-90, che ho iniziato a leggere Libro Game, e appunto voglio iniziare a portare un po' di Libro Game, o comunque Libro Avventura, sul canale, perché è un argomento che mi è sempre interessato. È un argomento che avevo un po' lasciato da parte, vi dico la verità, a fin dei tempi di Lupo Solitario, i Guerreri della Strada, le avventure di Libri Game Horror e quant'altro, e ultimamente li ho ripresi perché mi sono ricapitate all'occhio, soprattutto con l'editore Librarsi, che io intanto ringrazio di cuore per averci fornito questa copia per la recensione, e grazie veramente per averci dato questa possibilità di collaborare con voi come editore, che è una cosa che mi riempie veramente d'orgoglio, e ovviamente spero che la cosa possa durare e continuare. Intanto grazie, grazie, grazie veramente di cuore. Vi parlo della collana Fantasy Game e, nella fattispecie, le terre leggendarie, che se non erro dovrebbero essere usciti i primi due o tre romanzi. E il primo è quello che vedete qui davanti, Il Regno Lacerato, ed è una collana dei libri fantasy, io definisco, ma si autodefiniscono, open world, che sono una cosa che veramente mi ha rimandato indietro di tanti anni, perché quando eravamo piccoli alla fin fine e mancava un po' la componente dei videogiochi, l'unico modo per sfogarci con la fantasy era leggendo libri, scrivendo magari racconti, giocando a HeroQuest, o ce lo devo sempre mettere, o magari anche semplicemente facendosi una partita a Dungeons & Dragons, non essendoci la componente videoludica, come poi magari più avanti sono usciti i Bad Dudes Gate, altri giochi o The Witcher, altri giochi del genere, tutto quello che potevamo fare era giocare con la fantasia. E giocare con la fantasia quale miglior modo in quegli anni, se non leggendo e sfogliando appunto un libro game di lupo solitario, di Jodever. Ed era quella cosa bella perché sono stati veramente i padri e i precursori dei videogiochi moderni di oggi, infatti tanti software house, non l'hanno nascosto, che hanno fatto giochi basandosi, appunto, videogiochi basandosi su libro game del passato. Soprattutto, ve l'ho detto, il periodo di maggior successo sono stati gli anni 90, però già negli anni 80-90 qualcosa iniziava a venire fuori parlando d'Italia, poi magari in altri paesi era già, come sempre, ci avevamo preceduto una decina d'anni prima. E devo dire la verità, questo primo volume delle terre leggendarie è veramente bello e interessante perché le meccaniche ci rimandano un po' a quelle che erano quelle del tempo, ovvero soprattutto a Lupo Solitario, al Maestro Ramas, perché abbiamo delle caratteristiche e delle abilità. Quindi quando noi inizieremo la storia, ci verranno date una scheda del personaggio che dovremo compilare come equipaggiamento di partenza, soldi e caratteristiche, perché dovremo anche mettere le caratteristiche sulla scheda, e il gioco ci chiamerà spesso e volentieri a fare delle azioni, delle scelte, che di solito nel libro game all'inizio è uno e il finale è uno, però ci si arriva in vari modi al finale, quindi magari la strada A che prendo io non è la strada C o D che hai preso te. Ed è anche una cosa bella per andarsi a confrontare con altre persone, una volta che l'hai finito, sono altamente rigiocabili. Però magari dire, te che strada hai preso? Oppure, no, non è la strada che ho preso io. Ah, ma c'erano anche queste cose nel romanzo? No, le voglio sbloccare, tra virgolette, anch'io. E quindi te lo rigiochi. E se che il modo di giocarli, la libertà che ti danno è tanta. Soprattutto in questa terra leggendaria che proprio, a differenza di altre che ho letto recentemente, proprio lo crea Open World. Questo, più che un libro game, è veramente un videogioco narrato, e ve lo giuro, l'esempio più lampante è quello. È un videogioco narrato, quindi non vedete, ma leggete quello che accade. Ma è veramente un videogioco, perché in tanti giochi la storia è subbinario. Sì, quando arrivi qui puoi prendere la scelta A o B o C, però poi tanto ti ricolleghi sempre al binario. Poi magari ti danno altrimenti scelte, però bene o male poi prendi varie ramificazioni, ma per poi ricollegarti al binario città. Questo no, questo è davvero un Open World, nei pregi e nei difetti, nelle cose positive e nei lati ovviamente anche negativi, che poi vado a dire alla fine. È veloce, scorrevole, narrato veramente molto bene. La storia è inventata in questo regno, comunque questa regione di Soccara, che è la classica regione un po' fantasy, come aveva visto in tante avventure, ricorda un po' anche quella di Jodever con i guerrieri dracca e quant'altro. È il classico mondo fantasy, high fantasy tra l'altro, medievale, quindi ci sta veramente bene come ambientazione. Il nostro personaggio inizia la storia trovandosi sulle rive, tanto è proprio la prima pagina, non vi sporo nulla, sulle rive dell'isola dei Druidi, sulla spiaggia dell'isola dei Druidi, e da lì dovrà iniziare il suo percorso, la sua avventura. Ed è già bellino perché già dalle prime pagine ti fa capire come funziona il gioco. Verrai portato su una collina davanti a vari portali magici che ti porteranno nelle varie città del mondo. Quindi sembra anche un po' un gioco fantasy, no? Un head scroll o qualcosa del genere. Vuoi iniziare, boh, nella città più ricca? Vuoi iniziare nella fortezza dei Nani? Vuoi iniziare in quella città portuale? Uno potrebbe dire, ma a me piacerebbe fare avventure via mare, diventare un pirata, un bucanero, cose del genere, oppure mi piacerebbe magari prettamente fare, non lo so, più missioni di commercio, quindi magari è meglio che vado da Nani. Le possibilità sono tantissime. E il regolamento è bello scorrevole, anche qui o tirate dei dadi, o se no in fondo al libro, tanto ve la faccio vedere nel corso appunto della recensione, avete la classica tabella, quella di lupo solitario, pari pari, con tutti i numeri segnati, e voi a occhi chiusi dovete o andare a indicare col dito o puntare con l'apis. Io vi consiglio, ovviamente, di cercare di usare dei dadi, perché alla fin fine, tanto lo sapevi più o meno dove era la metà della pagina, e anche non volendo, si chiama istinto di sopravvivenza, anche non volendo, se stavo per dire mouse, il lapis andava sempre a puntare lì. E andando a puntare in quel punto, guarda a casa, è superato la prova. Tanto dai, siamo tutti sinceri. Quando leggiamo i libri game, teniamo sempre un pollice, o comunque un indice, sulla pagina precedente, perché se la chiudi e in quella dopo fai, no, ma sono morto, e poi non ti do di più che la rivella prima. Cosa fai? Lo rileggi tutto? Quindi quella è un'usanza che usiamo tutti quanti, però è regolamente spiegato bene. Quindi, questo è un gioco laddove difficilmente morirai per scelte sbagliate, giustamente, perché è come giocare a D&D, c'è la strada A, B e C. Solo la sci è quella giusta, l'A e B mi portano a morte. La gente poi non gioca più. Cioè, dopo due volte che lo rinizio, mi disturba questa cosa qui, mi metterebbe anche ansia giocandolo. Quindi, invece di tenere l'indice o il pollice alla pagina prima, difficilmente, può capitare, ma difficilmente morirai per delle scelte più facile che tu muoia per combattimenti o cose del genere. E il gioco è interessante perché hanno creato un vero e proprio mondo vivente, open world, e hanno fatto una cosa che io sinceramente non ho mai visto, mai, quindi è una cosa loro per forza, in più non me la sarei nemmeno mai sognata, non ce l'ho nemmeno mai pensato. Allora, ripeto ancora una volta, tanto comunque trovate il primo link in descrizione, lì non si accettano errori. Non so se sono usciti due o tre romanzi, forse anche di più, che sono tutti collegati, a seconda della collana ovviamente, la collana, quello, le fatiche di Autolico, ambientato nel periodo ellenico dell'antica Grecia, quello, ovviamente, è una cosa a parte, che non ci interessa con questi, però tutti quanti i romanzi delle terre leggendari, Libre Game, sono collegati. Quindi, quando voi guarderete la mappa del gioco fatta benissimo, e direte, vada a nord, prossimo bivio, vada a nord, vai a est, a ovest, a sud, che ve lo chiede tutte le volte, vada a nord, quando arriverete a un certo punto, il gioco stesso, il Libre Game, vi dirà, ok, prendi il secondo volume della saga terre leggendari, e comincia dal capitolo, dal paragrafo 020. E te devi prenderlo, chiuderlo, metterlo da parte, prendere il secondo volume, un bonus è malo, se ve lo dico dopo, il secondo volume è andare a capitolo 20, e prosegui la storia in un altro libro. Cioè, è una cosa fenomenale, perché se uno pensa ce l'ha tutti quanti, ovviamente è un mondo vero, e poi aspetta, ogni libro ha più o meno una regione, quindi cambia anche regione, anche zona, magari da lì fai un viaggio a nave, dal terzo libro, che ti rimanda al primo. Quindi te devi lasciare il terzo, mettere un segnalibro, e tornare al primo. Ed è una cosa bella, perché crea, funzionale poi o meno, perché crea un ecosistema reale, cioè nel senso, crea veramente un mondo vero, che è grande, oltretutto non legato alle pagine, lì per lì, o al numero dei paragrafi, perché virtualmente, in tutti questi libri, ci potrebbero essere 2000-3000 paragrafi, e di pagine si potrebbe andare sul migliaio. Quindi comunque è materiale, cioè intanto. E, secondo me, quello che funziona un po' meno, c'è le due cose che funzionano un po' meno, mia, personale appunto, cosa ne penso, sono stati fatti, no, due errori, perché magari due errori non sono, fondamentalmente, però diciamo, io l'ho vista un pochino come due cose, o due leggerezze, o due cose che potevano essere un attimino riviste, in una certa maniera, ci voleva un rodaggio di più. Perché? La prima è che, a differenza dei libri game che ho letto, che sto leggendo, i paragrafi sono troppo piccoli. Qui veramente, una descrizione può essere, ti avvicini, vedi un villaggio a distanza, con dei comignoli di fumo, che escano praticamente dai soffitti delle case, questi tetti spioventi. Basta. Poi magari ti dà l'opzione, visita il villaggio, magari fai visita il villaggio, arrivi al villaggio, vedi che è un villaggino piccolino, con una piccola locanda, un pozzo nel mezzo, e il sindaco ti invita a casa sua, subito per fare una chiacchierata. Cioè, in cinque righe. Uno dice, sono nemmeno arrivato, già c'è il sindaco che mi invita, una cosa del genere. Che può essere bene e male, perché comunque, ci sono molti più paragrafi. E poi, in un'ambientazione open world, non puoi scrivere due pagine per ogni paragrafo, perché, non ce la fai, ti ci vorrebbe un volume così. Cioè, che a sfogliarlo, di buono, partano le ventate in casa. E, e quindi, questa qui, è una scelta artistica, che ci può anche stare. L'altra parte, però dopo un po' me l'ha smorzata, è il fatto dell'open world. Ora, tutti quanti in libro game, partivano da una storia inizio, c'era un finale, un inizio unico, un finale unico, però, erano sub binario, però la strada per arrivare, c'erano diecimila. Magari te lo finivi passando nel villaggio di Goblin, io per le caverne, e te via mare, via barca. Non sbarcavi nemmeno. E, e andava bene. Questo invece, non ha, non è una storia. Questo è proprio alla, eh, prendete Baldur's Gate, che è un mal esempio che uso sempre, levateci la storia di Sarivok, levatecela completamente, e lasciateci solo tutte le quest secondarie. Questo è un gioco che ti dice, vai a Est, te vai a Est, e trovi magari dieci quest. Le puoi fare, come no? Se le prendi queste quest, il gioco ti dice, ricordatelo, segnatelo sulla scheda che hai preso sta quest, e poi, una volta che l'avevi presa, andrai nel punto, farai la quest, e lui ti dirà, avevi la quest quando le faccia, quando hai ammazzato questo mostro, quando hai trovato questo tesoro, l'hai trovato e basta, o c'avevi anche la quest che hai segnato, te ce l'hai, e ti dice, allora torna a pagina, te torni a pagina, e praticamente c'è il tizio, che ti ringrazia, e ti dà la ricompensa, i soldi e quant'altro. Però, io ho preso, 20 quest, ne ho fatte due. E non sto scherzando, perché il gioco, non ti dà alcuna indicazione, non ti accompagna, niente, niente. Lui ti dice il gioco, che è una cosa, ripeto, bella, o meno bella. C'è la mappa del gioco, ti dice, ti trovi nella città A, che si trova a sud, ok? La missione a nord, il campo di questi briganti, che hanno rapito la figlia dell'host, che ti ha accettato, si trova a nord, in mezzo alle cascate dorate, vi faccio un esempio, e la città d'argento, ok? Quindi, potrebbe essere nel mezzo, ti devi andare a nord, però, quando arrivi a nord, ti dirà, vuoi contenere a est, vuoi contenere a sud, quindi, proprio a livello cartografico, lo devi trovare a te quel posto. Se lui ti dice che una missione era nelle caverne a est, a cento chilometri, dal villaggio dove l'hai presa, e te dopo due o tre capitoli inizi ad andare a nord, cioè, più a est, quindi ti toccherà da nord, riseguire le varie indicazioni per tornare a sud, e poi da sud andare verso est, quindi, ti perdi. Veramente, ho preso 20 quest, ne ho fatta una con dei fantasmi, non dico nulla, e un'altra che era a caccia di una specie di coccatrice, o comunque piccolo drago, dentro una grotta. Cioè, su 20 quest, che ho la seconda pagina della scheda piena di quest, ne ho fatte due. Quindi, ricapitolando, il gioco funziona bene, però, secondo me, ha delle cose che avrebbero dovuto un attimo rivedere, perché non devi accompagnare il giocatore tenendolo per mano. È tutto un altro tipo di visione, questo è tutto un altro tipo di libro game. Però, comunque, chi è abituato al lupo solitario, a cose del genere, si perderà sicuramente. Ora, se le devo dare un voto a un gioco del genere, le do un 7 su 10, meritatissimo, mi sta piacendo molto, però, i punti che vengono un pochino a mancare, sono la storia che c'è, uh, se c'è, ma alla grande, però, fa l'effetto di Witcher 3, te lo sai che devi trovare CD. Il problema, che c'è talmente tante quest secondarie, posti da visitare, che dopo tre ore, che perdi a fare queste secondarie e terziarie, di Siren, te ne frega più nulla, e manco ci pensi più, e sicché, continui a fare, praticamente, quello che facevi prima, ovvero farmare, farmare, farmare queste secondarie, e questo è quanto. E poi, ovviamente, anche lo, i paragrafetti, sono sincero, troppo piccoli, non mi sono piaciuti molto, perché mi piace una cosa molto più discrittiva, ve l'ho detto, magari arricchendolo un pochino più di dettagli, anche allungando il brodo, alla fin fine, non mi devi dire niente di concreto, però allunghi il brodo un po' di scrivendo, un po' troppo veloce, e questa parte, che inizialmente mi era piaciuto molto, poi un po' me l'ha smorzata, nel fatto che davvero, ho una scheda piena zeppa di queste, e ne avrò fatte due, e ora sto provando a fare la terza, ma non mi riesce a trovare il posto, quindi è sempre un tornare indietro nelle pagine e tutto, però per gli amanti del libro game, e soprattutto per gli amanti come me, dei giochi open world, assolutamente questo libro game lo dovete prendere per forza, perché è veramente bello, e poi nel caso vi dovesse piacere, prendete anche gli altri della collana, che potete giocarlo e finirlo tranquillamente, senza comprare gli altri, però magari quando arriverete a un certo punto del libro game, vi dirà, ok prendi il libro numero 2, voi non ce l'avete, non potete andare avanti, ma non è che lo dovete buttare nel foo e finito, no, semplicemente il gioco ti dirà, se non hai il libro, queste sono le altre scelte che puoi fare, e torni indietro, praticamente giri in questa mappa, e non vai a sbucare nell'altra, quindi io ringrazio di cuore la librarsi edizione, per averci un offerto, una copia per la recensione, grazie davvero di cuore, è un onore poter collaborare con voi, e trovate in descrizione, primo link dove acquistarlo, più tutti i link dei nostri social, fatemi sapere cosa ne pensate, fidatevi, veramente vale oro, quindi assolutamente consigliatissimo, ciao ragazzi, alla prossima!